Dopo l'applicazione della tecnologia satellitare all'acquedotto che ha fornito degli ottimi risultati come abbiamo visto, siamo passati ad applicare questa tecnologia anche alle reti fognarie. Sostanzialmente la tecnologia satellitare con applicazione sulle reti fognarie ciò che fa è praticamente andare a registrare quello che è lo spostamento del terreno e quindi lo spostamento in termini di spazio e anche accelerazione e velocità con cui questo spostamento avviene. Questo è molto importante perché quest'analisi satellitare ci fornisce un inspection priority score che è un coefficiente che viene applicato ad ogni reti fognaria che abbiamo in provincia di Varese e che sostanzialmente rappresenta quella che è la probabilità che la fognatura abbia registrato un danno, abbia comunque un danno a causa del movimento del terreno oppure appunto che la fognatura rotta possa avere innescato un piccolo movimento del terreno. Questo è molto importante perché ci permette anche di effettuare le operazioni di manutenzione prima che l'utenza abbia dei problemi come per esempio il cedimento della strada e piuttosto che magari il ritorno di reflow fognario in casa. Questa tecnologia satellitare ha permesso in breve tempo di esaminare tutti i 3600 chilometri di rete in gestione ad Alfa e di identificare circa 36 chilometri di rete potenzialmente danneggiata. Di questi 36 chilometri sono stati già ispezionati circa una decina e attraverso questa ispezione è stato possibile riscontrare o rilevare diversi danni di modesta entità e alcuni di entità maggiore che sono stati prontamente riparati anche con tempistiche di intervento notevolmente minore rispetto all'utilizzo di tecnologie diciamo tradizionali.